benvenuti bentornati qui sul mio canale qui il vostro mister frubis vi ricordo che tutte le sere siamo in live dopo le 22 l'id del canale mister cilindro bm vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale e condividere il video oggi vi porto una build dell s o 14 diciamo l'ex dmr di warzone io oggi l'ho usata questa classe tutto il giorno e mi ha dato parecchie soddisfazioni ha un danno devastante quest'arma utilizzando ovviamente la chronos non avete rinculo pari pari a zero allora la build questa qua è presa da community quindi se qua vi saltate qualcosa basta che andate a vedervela la canna è la 22 bore master con calibrazione più 42 più 35 la volate la saki 340 con calibrazione più 65 più 0 3 il sottocanna l'effetta creeper 56 calibrazione più 0 59 più 0 32 l'ottica la mpv4 con calibrazione meno 2 32 meno 1 65 e il caricatore tamburo da 50 colpi passiamo adesso invece alla classe della mitraglietta ragazzi io utilizzo questa mitraglietta qua perché l'ho trovata in un progetto la bassp non se la caga nessuno in realtà oggi io la sto usando e mi sono accorto che pesta i piedi e non poco alla iso 45 io vi faccio vedere la build in realtà è un progetto che si chiama nì muerto quindi io non l'ho toccata è così com'è e vi dirò quello che ha le calibrazioni non le so di quest'arma quindi ve la faccio vedere così sto canna è l'impugnatura ex 40 l'ottica la corio rx pro il calcio brun flash v4 l'impugnatura brun flash e il caricatore a tamburo da 50 colpi adesso andiamo al poligono e vi faccio vedere come spara allora innanzitutto per usare questa classe dovrete sempre 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 ricordarvi che quando ve lo mette sul loadout avete il il colpo singolo quindi basterà fare freccia perché lui è già automatico freccia sinistra e diventa automatico allora io sull'so 14 ho old precision anti recoil quick edit con rinculo verticale 9 e rinculo orizzontale meno 3 perché lei tende ad andare un po' a destra e adesso vi faccio vedere come spara vedete che l'arma è rimasta sempre lì vi ricordo che con questo tipo di anti rinculo l'anti rinculo si blocca sul nemico ok se voi sparate dove non c'è un nemico l'anti rinculo vedrete l'arma che scende vertiginosamente anche perché con 9 di anti recoil comunque vi assicuro che è devastante quest'arma sempre così e adesso proviamo a sparare allora c'è un modo che si mettono tutti in fila i tizi qua io ho messo 9 di anti recoil ma a secondo della vostra sensibilità io comunque adesso vi dirò quale sono le mie sensibilità allora adesso passiamo al buzz p il buzz p praticamente io questo non l'ho toccato e di anti recoil su quest'arma qua c'è 10 sull'anti rinculo verticale e 0 su quello orizzontale ok vi faccio vedere comunque anche lei è molto molto precisa vedete è precisa ha un ratio di fuoco veloce guardate alzi i pollici vabbè ragazzi intanto qualche sgarro ci lo consentiamo il consiglio che vi do provatela ragazzi se non vi piace e non muore nessuno io mi sto trovando da dio anche perché non c'è fucile che resiste più forte dei tattici questo è un tattico che spacca da paura allora le mie sensibilità sono 6-6 uso 0-7 di zona morta sull'analogico destro quindi su questo qua della visuale e 0-4 su quello sinistro raga non alzatela troppo la zona morta dell'analogico sinistro perché sennò poi lo scatto tattico fa fatica a entrare detto questo ragazzi il video è terminato vi aspetto in live e vi ricordo se volete giocare basta che passate in live siete sempre benvenuti tutte le sere lì di lo sapete lo stesso del canale buon pomeriggio a tutti ci vediamo alla prossima del vostro mister frubis è tutto bye bye